Ehi ragazzi ma queste gare sono un po' troppo facili però C'è ancora un sacco di montagna da dominare bello e a quanto pare i poliziotti giù in basso sono sempre di più Andiamoci dentro Oh mio dio Emi adesso tocca alla tua gara Dai siamo quasi alla fine non posso farmi recuperare adesso Dai che abbiamo finito dai Cazzo No Vabbè Ragazze ma è alla grande Io invece Tu invece Tu invece cosa? Alla grande io avrei vinto Valle derapate Anche Spike approverebbe Io torno alla roulotte Posso trovarmi se ti va ok? Ciao Vabbè Robin sto arrivando Valle derapate Valle derapate Grazie a tutti. Ricorda di raggiungere la velocità obiettivo perché la curva sia valida, ok? Via! 241 km rari. Ne prendi in giro. Va bene. 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 Quanto è bello dominore Ho vinto E' stato pazzesco Fish, davvero Devi venire al prossimo incontro Folla enorme, grande atmosfera Da non perdere Va bene, ci sarò sicuramente Ehi, ti serve una buona trazione Per risalire la collina Vediamo se il tuo mezzo è all'altezza Suppon così sì Robin? Quanto è? come sto andando? sto andando bene? oh mio dio vai 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 uh quasi perfetta qua voglio la perfezione quasi l'importante è fare bene e andare veloce oh mio dio oh mio dio vai 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 cazzo 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 levati dal cazzo pure tua come non l'ho preso non lo so nemmeno io questa era buona questa era buona dai uh bruciato o meno la trazione era buona senti sto scherzando tutto qui beh non ride nessuno Manu ho capito ti ripeto scusa non succederà più oddio ok grande novellino vai ti conviene stare attento sai Emi è un osso duro cito non hai niente da fare si ma certo ci becchiamo dopo sono al garage vieni qui c'è un po' da sistemare va bene sto arrivando al garage e comunque io non sono più un novellino eh ciao ma tu devi per forza lasciarmi postare queste foto perché potrebbe vederle chissai tu capisci però senti noi non amiamo i rischi inutili qui no quindi bilanciare l'auto per gestire quella potenza è il passo numero due ok va bene lo sai che Nakai-san una volta era un pilota di strada come noi e adesso gira il mondo creando auto per clientele esigenti è vero sono fantastica o modestamente torna ai tuoi suoni primordiali Manu guarda qui ho postato una foto delle nostre auto stupenda già stupenda sì ora aspetterà tutta la notte il mi piace di tu sai chi non sono affari tuoi comunque passi troppo tempo sotto quel cofano dobbiamo farti ritornare in strada a correre certo ci vediamo più tardi ok pace ok ciao 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 ciao